Perchè mi hai seguita in quel pub quella sera? Che dovevo fare? Sono intervenuto. Dovevo andare così. Sembrava che fossi felice di avere una scusa. Chi sono quelle persone? Non lo so. Stai nascondendo qualcosa. Ha ucciso tutte le persone a cui volevo bene. Come credi che ci si senta? Che cos'è? Ok. Facciamo a modo mio. Non perdere tempo. Sogno sempre Frank. Tutte le notti. Perchè si crede, si crede migliore di me. Voglio che lui provi quello che ho provato io. Abbiamo una conoscenza in comune da Moaio. Li voglio tutti e due vivi. Saremo lì a breve. I poliziotti Fanno una brutta fine. Poi lo finirò. E se Billy ti uccide? Non morirò io tra i due. No, lo farò fuori. Tu non hai filtri, lo sai, vero? Fammi essere ciò che sono veramente. No. Andiamo a mangiare. Dammi i soldi. Per niente sospetto.